ciao a tutti sono Michele Tuveri di Highways Distillery e ora degusteremo Rendezvous Rye lo Utah, il posto dove è stato distillato questo grandissimo whisky è il primo stato dove fu fatto il Rendezvous il Rendezvous era quell'occasione durante la quale i coloni americani si incontravano per scambiare i loro prodotti quindi i cacciatori portavano le pelli, i minatori portavano l'oro, l'argento, il rame e si incontravano tutti nella prateria e scambiavano i loro beni si dice che il primo Rendezvous durò un paio di giorni invece il secondo Rendezvous, il primo al quale fu portato il whisky durò un paio di settimane perché divenne un grandissimo party nella prateria questo Rendezvous è un whisky di segale, quindi un Rye Whisky e a differenza della stragrande maggioranza degli altri Rye non è prodotto con 51% di segale e 49% di altri grani, tipicamente mais ma è prodotto con quasi il 100% di segale la segale non fermenta da sola, quindi c'è bisogno dell'aiuto dell'orzo quindi è un piccolo starter di orzo fermentato ma qui abbiamo due whisky diversi uno è 85% segale e 15% segale fermentato, malto di segale e un altro è il 95% segale e solo il 5% di malto d'orzo questo ci consente di avere un whisky che è assolutamente molto complesso è particolarmente speziato all'inizio della sua vita ma grazie al lungo invecchiamento in botti di rovere carbonizzate vediamo che si è ammorbidito e ha creato degli aromi assolutamente morbidi e piacevoli possiamo immediatamente notare degli aromi di pera cotta, cannella piccoli pezzi di cioccolato, legno tostato e sul fondo anche un po' di mela verde e menta questo è un whisky assolutamente scusate non riesco a trattenermi dal berlo è un whisky assolutamente perfetto per la meditazione per stare davanti a un camino e assolutamente anche per condividerlo con i nostri amici vi consiglio di assaggiarlo prima senza l'aggiunta di niente e poi se vedete che avete bisogno di un tocco di leggerezza in più magari aggiungere un paio di gocce d'acqua o un piccolo pezzo di ghiaccio per il ghiaccio vi consiglio di farlo da voi utilizzando acqua di bottiglia e non acqua di rubinetto diciamo che noi ci impegniamo molto nell'utilizzare solo acqua di sorgente e quindi è importante che anche l'acqua che introducete voi sia della più alta qualità possibile grazie grazie Grazie.